Incentivare la presenza di turisti nei comuni di Ragusa, Comiso, Scicli e Santa Croce e Camerina dall'ultima settimana del mese di luglio fino alla fine dell'anno. E' questo l'obiettivo del progetto Discovery Ragusa, che vede coinvolti i quattro comuni Iblei, il libero consorzio comunale di Ragusa, l'aeroporto di Comiso, la compagnia aerea Tayaran Jet e la società di navigazione Virtu Ferris. Il progetto, presentato ieri nell'aula consigliare del comune di Ragusa, riguarderà una proposta di pacchetto turistico 3x2 che consentirà a chi utilizzerà il vettore aereo Tayaran Jet e quello navale Virtu Ferris di poter prenotare tre notti nelle strutture dei comuni che hanno aderito all'iniziativa pagando solo due notti. Il terzo pernottamento verrà offerto infatti dalla struttura. Per attrarre nei territori interessati i turisti, i comuni che hanno aderito a Discovery Ragusa offriranno il trasporto gratuito dei passeggeri dall'aeroporto di Comiso dal porto di Pozzallo fino alla struttura scelta, oltre ad una visita guidata gratuita a Ragusa Ibla. Presenti, oltre gli assessori dei comuni interessati, anche l'assessore regionale al turismo, Manlio Messina. È un progetto di grande sinergia, utile al territorio, ho fatto i complimenti al sindaco, all'assessore Barone proprio perché mette in campo davvero tutti gli operatori del settore territoriale. Un progetto che è molto similare a quello della regione, quindi stai tre notti in Sicilia e una notte la paga la regione siciliana in questo caso una la paga il consorzio, le sinergie che hanno messo in campo tutti questi comuni che ritengo troverà sicuramente successo per i turisti che hanno voglia di venire in Sicilia e sono tanti per fortuna. Ci sono delle forme di promozione turistica per il nostro territorio importanti che saranno illustrate in particolare la formula di avere tre soggiorni pagandone soltanto due che mi sembra un ottimo modo per spingere e invogliare le persone a venire a Ragusa. Abbiamo oggi l'onore di avere presente anche l'assessore regionale al turismo, l'onorevole Manlio Messina e cercheremo di fare in modo che questa stagione che è già iniziata, sebbene con ritardo per le note vicende possa entrare nel vivo e possa vedere Ragusa protagonista. La prima volta c'è una grande sinergia con i quattro comuni, Comiso, Cicli, Santa Croce e Ragusa si mettono insieme per un nuovo progetto. Un progetto che abbiamo presentato già all'Abiti Milano prima ancora del Covid che riguarda un pernottamento gratuito per chi dorme almeno nel territorio, almeno tre notti. Ringrazio su questo anche le associazioni in categoria che hanno dato una grossa mano d'aiuto il CCN, il Centro Commercio Natura di Ibla, la Federalberghi, la CNA e anche la Costa Iblea di Marini Ragusa che hanno messo a disposizione, sono circa 100 le strutture partecipanti loro metteranno a disposizione una notte gratuita noi daremo gratis la visa guidata e notturna o di Ragusa Centro o di Ragusa Ibla il trasporto per chi prende le compagnie convenzionate come la Tarai Angetto oppure come la Virtu Ferris ma così come altre compagnie aeree che si vorranno registrare e fare questo partenariato con noi perché anche nel loro sito sarà possibile trovare l'immagine di Scopri Ragusa per prenotare e daremo anche altri servizi, sconti per quanto riguarda la visa dei musei e le cose più importanti che saranno in provincia.